Il tema della lezione odierna è i principi generali sugli enti senza fine di lucro. Si tratta di una lezione nella quale non viene esaminata nel dettaglio la disciplina relativa agli enti senza fine di lucro, ma semplicemente una linea dei principi generali su questi enti anche al fine di distinguere gli uni dagli altri. La prima cosa che bisogna subito dire parlando degli enti è il tema degli organi. Ora, è abbastanza ovvio che quando parliamo della persona umana non ci preoccupiamo mai della modalità attraverso la quale la persona umana agisce nella realtà circostanze, perché è evidente che la persona umana ha una sua autonomia. Per contro, quando parliamo degli enti, il primo problema che ci dobbiamo porre è di vedere come questi enti possono interrelazionarsi tra di loro. Perché dico in che modo questi enti possono interrelazionarsi tra di loro e con la restante comunità? Perché evidentemente gli enti non esistono. Se noi pensiamo agli enti come realtà ontologica, come realtà fenomenologica, di fatto essi non esistono. Nessuno di noi ha mai visto passeggiare per la pubblica via un ente. Cioè l'ente è una finzione dell'ordinamento, dal momento che l'ente non è altro che un insieme di persone, le quali si raccolgono per realizzare una certa finalità. Quindi quando ci sono un gruppo di persone che si riuniscono per realizzare una finalità, lì tendenzialmente potrebbe aversi un ente. Ora, in che modo questo ente agisce? Questo ente agisce attraverso i suoi organi. Qui il concetto è abbastanza interessante, perché se ci facciamo caso, la parola organo è una parola che evoca nella persona umana quelle che sono le sue parti. Ed effettivamente, secondo questa rappresentazione, gli organi dovrebbero essere quegli, entre comillas, strumenti attraverso i quali gli enti possono agire. Vediamo quali sono, come dire, gli organi principali di un ente. Ovviamente qui faccio un discorso di carattere ancora più generale, che riguarda qualunque ente, sia enti con fini di lucro, sia enti senza fini di lucro. O se volete, sia enti con personalità giuridica, sia enti senza personalità giuridica. Quindi, diciamo che a livello tendenziale, uno degli organi più significativi può essere quello associativo. L'organo associativo non è altro che l'organo composto da tutti i soggetti che si sono raccolti insieme per poter realizzare questo fine comune. Poi ci deve essere un organo amministrativo, che è l'organo il quale ha un potere di gestione. E infine ci dovrebbe essere un organo di controllo. Oltre a questi tre organi ci dovrebbe essere anche un ulteriore organo, che è fondamentale, che è l'organo rappresentativo. Ora, cerchiamo quindi di vedere qual è la differenza tra questi organi, associativo, amministrativo, di controllo, e, anche se non lo vediamo qui nella slide, l'organo rappresentativo. Gli organi, vi dicevo, rappresentano per gli enti ciò che rappresentano per la persona umana le sue componenti, i suoi organi. C'è un organo associativo che è composto, come dire, da tutti i soggetti che costituiscono l'ente, tutti quei soggetti che costituiscono l'ente che si sono raccolti per poter realizzare un certo fine. Poi c'è un organo amministrativo. L'organo amministrativo è l'organo che tendenzialmente ha il potere di svolgere una amministrazione, cioè quell'organo che assume le decisioni e nel momento in cui assume quelle decisioni sono le decisioni che governeranno il funzionamento di quell'ente. Se proprio io dovessi fare un parallelismo che è un po' ardito, si potrebbe dire che l'organo amministrativo di un ente corrisponderebbe al cervello, alla mente di una persona umana, cioè il luogo nel quale vengono assunte le decisioni. Naturalmente qui si tratta di un organo che ha la sola ed esclusiva funzione di assumere le decisioni. Una volta che queste decisioni siano assunte, è necessario che queste decisioni siano portate all'esterno. Noi sappiamo che il diritto intanto valuta un fatto come giuridicamente rilevante in quanto quel fatto sia percepibile. Ricordate, facevamo sempre quell'esempio. Se io voglio comprare un determinato bene e entro in un negozio che vende quel bene e dentro di me penso voglio comprare il bene, voglio comprare il bene, dall'altra parte c'è il venditore che mi vuole vendere quel bene e pensa tra di sé voglio vendere quel bene, voglio vendere quel bene, ancorché esistano le due decisioni, quella di vendere e quella di comprare, è sicuro che per il diritto non ci sia il contratto. Perché si possa dare un contratto è necessario che quelle decisioni vengano manifestate all'esterno. perché sino a quando quelle decisioni non vengano manifestate all'esterno quelle decisioni rimangono irrilevante. E così si deve dire per l'organo amministrativo. L'organo amministrativo è l'organo che assume le decisioni ma poi ci vuole un organo che è ancora più importante che è l'organo che porta all'esterno queste decisioni. Un organo che porterà all'esterno queste decisioni e quindi portando all'esterno queste decisioni farà in modo che queste decisioni diventino giuridicamente rilevante. Diciamo che spesso organo amministrativo e organo rappresentativo coincidono però la circostanza che coincidono non esclude che si tratta di due organi molto diversi tra di loro. Una cosa è l'organo amministrativo ossia l'organo che ha la funzione di assumere le decisioni. Un'altra cosa è l'organo rappresentativo che è l'organo attraverso il quale le decisioni che vengono assunte vengono portate all'esterno. Quindi come dire se io sempre per fare questo parallelismo un po' spinto pensassi alla persona umana direi che mentre l'organo amministrativo nella persona umana è rappresentato dalla mente, dal cervello l'organo rappresentativo è rappresentato come dire dalla bocca quindi attraverso la quale si esprime attraverso le parole o attraverso tutto il corpo con il quale può compiere un'attività, una gesticolazione. Se Fulano incontra Mengano Fulano può dire adesso darò uno schiaffo a Mengano in questo momento c'è l'organo amministrativo che ha assunto la decisione. Questa decisione sarebbe rilevante fino a quando non c'è un organo rappresentativo cioè fino a quando Fulano non dà un golpe a Mengano e attraverso questo schiaffo attua la decisione. Quindi è evidente che da una parte c'è la decisione assunta dall'organo amministrativo dall'altra c'è la modalità attraverso la quale l'ente interattua, reagisce, relaziona con il mondo esterno attraverso l'organo rappresentativo. Infine c'è un terzo tipo di organo che è tendenzialmente un organo che noi chiamiamo un organo di controllo che è l'organo attraverso il quale si esercita un controllo sull'attività amministrativa. Generalmente quindi quando c'è un organo al quale è affidato il compito di assumere delle decisioni c'è, non è necessario quindi si tratta di un organo eventuale un organo al quale è affidato il controllo delle attività che vengono assunte da parte dell'organo amministrativo. Quindi gli organi essenziali diciamo sono due gli organi essenziali sono l'amministrativo e quello che non vediamo qui che è il rappresentativo poi ci sono altri due organi importanti che sono quelli associativo e quelli di controllo. Diciamo che quello di controllo e quello associativo diciamo quello di controllo è talvolta eventuale in alcuni enti potrebbe mancare l'organo associativo questo lo vedremo con le singole ipotesi. L'importante però che adesso sia chiaro che l'organo agisce attraverso scusate, michellente agisce attraverso i suoi organi l'organo principale è l'organo amministrativo che assume le decisioni altro organo fondamentale è l'organo rappresentativo che è quello che porta all'esterno una sua decisione. Ovviamente ci deve essere una congruenza tra l'organo amministrativo e l'organo rappresentativo perché l'organo rappresentativo dovrebbe portare all'esterno una decisione che è coerente con quella assunta dall'organo amministrativo altrimenti se l'organo rappresentativo porta all'esterno una decisione diversa rispetto a quella assunta dall'organo amministrativo in quel caso come dire ci sarà un e l'abbiamo già visto ipotesi di assenza di potere se all'organo rappresentativo quel potere non lo aveva o un eccesso di potere se eccede il proprio organo. Ora detto questo quindi diciamo che gli organi sono gli strumenti attraverso i quali gli enti agiscono nel mondo bisogna vedere quali sono diciamo le modalità per le costituzioni dell'ente mentre diciamo la costituzione che in realtà chiamiamo nascita della persona umana è molto semplice perché è legata molto semplice insomma tendenzialmente perché è legata al parto salvo ovviamente tutte le tecniche di riproduzione medicalmente assistite nel caso degli enti anticipano un problema come nasce l'ente come si costituisce a riguardo diciamo si parla di due atti che spesso vengono confusi tra di loro atto costitutivo e statuto vorrei però che fosse chiaro che atto costitutivo e statuto sono due atti fondamentalmente diversi la circostanza che siano due atti diversi non esclude che possono essere fatti insieme cioè che un unico documento cioè un unico foglio possa inserrecare atto costitutivo e statuto anzi spesso succede che in un unico atto si scrive atto costitutivo e statuto però tecnicamente sono due atti molto diversi perché l'atto costitutivo è l'atto che prende il luogo del parto della persona fisica cioè una volta che io faccio questo atto nasce lente in quella logica che abbiamo sempre individuato secondo il quale per stabilire qual è l'effetto giuridico che produce un atto io devo verificare qual è la situazione esistente prima e qual è la situazione esistente dopo se io prendo come punto di riferimento l'atto costitutivo ciò che posso osservare è che prima dell'atto costitutivo non esisteva lente dopo l'atto costitutivo esiste lente quindi è l'atto costitutivo che ha la funzione di creare lente diversamente lo statuto non ha la funzione di creare lente perché lo statuto presuppone che lente già sia stato costituito lo statuto è semplicemente il gruppo delle regole più ampie più complesse attraverso il quale lente funziona io suggerirei sempre di tenere distinti anche da un punto di vista formale atto costitutivo e statuto perché perché l'atto costitutivo è un atto che rimane fondamentalmente fermo una volta che lente è nato sino a quando lente non muore cioè sino a quando non si estingue lente sempre rimarrà legato all'atto costitutivo in cambio le regole che ne governano il funzionamento che sono stabilite nello statuto quelle potranno sempre cambiare detto questo quali sono gli elementi principali dello statuto uno statuto deve contenere almeno la denominazione dell'ente perché visto che l'atto costitutivo funge da nascita è necessario che questo ente abbia un nome secondo l'indicazione dello scopo perché se non abbiamo l'indicazione dello scopo non si capisce qual è la funzione che questo ente assolve all'interno del sistema il patrimonio perché nessuno scopo neppure quello solidaristico più estremo può essere realizzato attraverso senza un patrimonio e infine la sede cioè il luogo nel quale il patrimonio l'ente deve costituirsi in cambio l'atto costitutivo scusatemi in cambio lo statuto si deve limitare a contenere delle regole che sono le regole sull'ordinamento e l'amministrazione dell'organo quindi vedete le regole sul funzionamento visto e considerato che ci sono degli organi bisognerà stabilire anche in che modo questi organi funzionano perché in che modo questi organi funzionano perché l'organo associativo sarà composto di una pluralità di persone e quindi questa pluralità di persone deve decidere nel momento in cui questa pluralità di persone deve assumere delle decisioni è necessario che siano stabilite delle regole attraverso le quali si possa precisare quando una decisione viene assunta in questo caso quando parliamo come dire degli organi plurisoggettivi cioè degli organi composti da una pluralità di soggetti quantomeno per il funzionamento di quest'organo entrano in gioco due concetti importanti che sono e immagino che già li conoscete il quorum costitutivo e il quorum deliberativo il primo quorum costitutivo indica il numero dei soggetti che deve essere presente nell'eventuale riunione affinché la riunione dell'organo possa dirsi validamente costituita immaginiamo che io ho un organo associativo che si compone di 100 persone se io dico che il quorum costitutivo è quello della metà significa che perché l'organo associativo possa dirsi validamente costituito ho necessità che siano presenti alla riunione almeno 51 persone se ci fossero 49 persone non si sarebbe raggiunto il quorum costitutivo e quindi l'organo non si potrebbe dire neppure regolarmente costituito una volta che l'organo come dire si sia validamente costituito è necessario stabilire quali sono le regole per che l'organo assuma le sue decisioni quindi dal quorum costitutivo quindi il numero dei soggetti componenti l'organo che è necessario che siano presenti affinché l'organo si possa dire validamente costituito distinguiamo il quorum deliberativo che è il quorum dei soggetti che deve esprimere una certa preferenza affinché una deliberazione possa essere validamente assunta qui ovviamente quando parliamo del quorum deliberativo ci possono essere diverse regole si parte dalla maggioranza relativa alla maggioranza assoluta e quando parliamo di maggioranza assoluta poi bisognerebbe distinguere tra maggioranza assoluta dei presenti e dei componenti e poi delle maggioranze qualificate vediamo di che cosa si tratta la prima la maggioranza come dire semplice la maggioranza semplice indica indipendentemente dal numero dei presenti una deliberazione si considera assunta nell'ipotesi in cui abbia conseguito il numero maggiore di scelte diciamo questa è una regola un poco bizzarra e diciamo potrebbe nel campo delle decisioni si utilizza molto poco perché generalmente con questa espressione si vuole indicare l'ipotesi in cui chiedo agli associati di decidere se effettuare la scelta A B se a questo punto siccome il voto degli associati si deve ripartire su tre ipotetiche scelte si considera che è prevalente la scelta che consegue il maggior numero di voti nelle ipotesi invece più semplici io ho un'alternativa quindi chiedo ai soci di deliberare sulla A o B a questo punto è necessario che ci sia la maggioranza di voti per una poi c'è il famoso problema degli astenuti e inoltre c'è il famoso problema delle maggioranze qualificate perché alcune volte si dice che per assumere una decisione non basta la maggioranza dei presenti che si chiama maggioranza relativa ma ci vuole la maggioranza assoluta cioè la maggioranza di tutti quelli che compongono gli enti prova a fare un esempio abbiamo l'organo associativo che si compone dicevo di 100 persone immaginiamo che i presenti sono 60 in questo caso posso dire che l'organo si è validamente costituito ipatizzando infatti che il quorum costitutivo sia quello della metà perché l'organo possa essere validamente costituito bastavano 51 persone ne ho 60 quindi è a posto a questo punto supponiamo che bisogna assumere una decisione io ho 60 presenti se questi 60 presenti devono deliberare quindi io pongo in votazione una delibera pongo in votazione una delibera e quindi chiedo ai soci di esprimere un voto sì per approvare no per respingere la delibera se fosse richiesta come dire la maggioranza semplice significa la maggioranza dei presenti la maggioranza dei presenti se sono 60 60 diviso 2 è 30 quindi 31 significa che la maggioranza semplice è raggiunta se io conseguo sì almeno 31 voti se io raggiungo 31 voti significa che ho la maggioranza semplice potrebbe però essere chiesta la maggioranza assoluta che cos'è la maggioranza assoluta la maggioranza assoluta non è più la maggioranza dei presenti i presenti sono 60 quindi la maggioranza dei presenti è 31 ma la maggioranza degli aventi diritto al voto degli aventi diritto al voto sarebbe come a dire tutti coloro che avrebbero potuto votare anche se a quella riunione non sono presenti immaginando che i componenti dell'organo sono 100 e che tutti e 100 hanno diritto al voto perché si possa avere una maggioranza assoluta non mi bastano più 31 voti cioè a dire la metà dei presenti presenti 60 metà dei presenti 30 più 1 31 ma la metà degli aventi diritto gli aventi diritto sono 100 la metà più 1 degli aventi diritto significa 51 il che significa che se io ho una riunione di un organo composto di 100 persone che hanno tutti aventi diritto se per la costituzione richiesta la maggioranza io ho 60 e sto a posto quando poi dobbiamo andare a deliberare se è richiesta la maggioranza semplice io ho bisogno di 31 voti se è richiesta la maggioranza assoluta avrò bisogno di 51 voti quindi la maggioranza semplice è la maggioranza dei presenti la maggioranza assoluta è la maggioranza di coloro che hanno diritto al voto ovviamente ci possono essere delle specifiche materie rispetto alle quali il nostro ordinamento giuridico stabilisce che ci siano come dire delle maggioranze qualificate maggioranze qualificate significa che la legge dice perché venga approvata questa delibera è necessario che ci sia il voto di due terzi il voto di tre quarti e via discorrendo cioè una maggioranza che è maggiore della metà ecco in genere tutte queste norme devono essere contenute nello statuto che deve fissare per ciascun organo quale sono le norme relative all'ordinamento e all'amministrazione ovviamente deve indicare anche norme sul funzionamento dell'organo amministrativo dal momento che l'organo amministrativo può essere o un organo individuale cioè l'amministratore uno oppure può essere un organo collegiale quindi composto da tre cinque sette nove undici componenti nel caso in cui sia un organo collegiale cioè composto da più persone deve stabilire anche qui le regole per il quorum costitutivo per il quorum deliberativo e deve anche stabilire le norme perché l'organo possa nominare un eventuale suo presidente se se l'atto costitutivo ha questo contenuto minimo essenziale lo statuto serve per dettare le norme relative all'ordinamento e al funzionamento teniamo conto che visto che parliamo degli enti senza fine di lucro è necessario rispetto agli enti anche determinare o nell'atto costitutivo ma più probabilmente nello statuto quando si tratta di associazioni i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro missione e quando si tratta di fondazioni i criteri e le modalità di erogazione delle loro rendite un'ultima notazione che avevo omesso ovviamente ci possono essere un quorum deliberativo e un quorum costitutivo diversi a seconda che l'organo sia riunito in prima convocazione o in seconda convocazione diciamo che questa è un'esperienza abbastanza comune soprattutto nei condomini perché anche nel condominio c'è un organo che è l'organo assembleare che viene convocato dal suo amministratore almeno una volta all'anno e viene convocato in una prima convocazione e in una seconda convocazione ovviamente nella seconda convocazione ci sarà un quorum costitutivo e un quorum deliberativo che saranno più semplificati ora detto questo vediamo il funzionamento dei singoli organi dei singoli enti per capire come funzionano questi singoli enti e i primi due che prendo in esame sono gli enti senza scopo di lucro perché noi parliamo adesso solo degli enti senza scopo di lucro con personalità giuridica cioè le associazioni e le fondazioni ora cosa sia un'associazione molto semplice da capire un po' più difficile è la fondazione perché l'associazione che cos'è l'associazione non è altro che un organo nel quale io ho una pluralità di persone che si raccolgono si riuniscono tra di loro per raggiungere un determinato risultato per raggiungere un determinato obiettivo per esempio un'associazione potrebbe essere un'associazione sportiva un'associazione studentesca vi dicevo che esistono tutte quelle associazioni che si chiamano associazioni per fini culturali che sarebbero tutte quelle nelle quali si svolgono attività ludiche di vario tipo quindi l'associazione che cos'è l'associazione non è altro che un gruppo di persone che si riunisce per realizzare un determinato scopo quindi se io ho un gruppo di persone che si realizza si riunisce per realizzare un determinato scopo l'elemento fondamentale dell'associazione è sicuramente le persone cioè questo gruppo di persone che insieme lavora collabora perché intende realizzare uno scopo il che significa che l'organo più importante dell'associazione è l'assemblea che cos'è l'assemblea l'assemblea non è altro che l'organo che è composto da tutti i soci cioè tutti coloro che fanno parte dell'associazione che si sono riuniti in questa associazione e si propongono di realizzare questo determinato risultato ovviamente poi ci vorrà un organo di amministrazione l'organo di amministrazione è l'organo amministrativo che può essere o un amministratore unico o un consiglio di amministrazione a seconda che l'associazione preveda che la funzione amministrativa sia delegata una sola persona in questo caso avremo un amministratore unico o una pluralità di persone in più poi ci sarà un eventuale organo di controllo che serve per controllare il consiglio di amministrazione ovviamente qualcosa manca in questa rappresentazione manca il soggetto che ha la rappresentanza chi è che ha la rappresentanza la rappresentanza di un'associazione è affidata al suo presidente il presidente quindi è il famoso organo che ha una rappresentanza cioè colui che agisce il consiglio di amministrazione decide le decisioni diventano operative attraverso il suo presidente che agisce tra l'altro il presidente è anche la persona che sta in giudizio qualora l'associazione debba o chiamare in giudizio altri o qualora sia convenuta in giudizio quindi gli organi fondamentali dell'associazione sono l'assemblea che è l'organo più importante tanto che l'assemblea è l'organo che nomina il consiglio di amministrazione nomina l'eventuale organo di controllo e nomina il suo presidente poi il consiglio di amministrazione farà le scelte di amministrazione e l'organo di controllo vigilerà ovviamente nell'associazione come capite è necessario che ci sia un patrimonio però la cosa più importante dell'associazione è il gruppo di persone che si raccoglie intorno per la realizzazione come dire di questo determinato scopo una sola precisazione che è di carattere generale quindi potrebbe riguardare tutti gli organi potrebbe darsi che io ho un organo amministrativo composto da una pluralità di persone cioè un consiglio di amministrazione e potrebbe darsi che in questo caso ha il presidente ovviamente se c'è un organo amministrativo composto da più persone quando c'è un organo composto da più persone è sempre necessario che ci sia un presidente quindi l'organo amministrativo collegiale nominerà il presidente del consiglio di amministrazione potrebbe anche darsi che la funzione rappresentativa venga data al presidente del consiglio di amministrazione in questo caso una medesima persona assumerebbe una doppia funzione sia organo amministrativo sia organo rappresentativo si parla in questo caso anche di amministratore delegato diversa invece è la fondazione perché è diversa la fondazione perché se nell'associazione io ho più persone che si riuniscono insieme per realizzare un determinato obiettivo la fondazione ha una struttura fondamentalmente diversa perché c'è una persona che dice io vorrei costituire un ente affinché questo ente possa realizzare un determinato risultato quindi mentre nell'associazione io ho un gruppo di persone che peraltro è variabile perché potrebbe aumentare o ridursi perché ci possono essere nuove persone che entrano nell'associazione o persone che escono nell'associazione la fondazione generalmente c'è una sola persona che dice adesso voglio costituire un ente perché si preoccupi realizzi un determinato obiettivo vedete c'è una forte differenza tra l'assemblea e il fondatore perché mentre l'assemblea è un organo che è composto da tutti gli associati che fanno sempre parte della vita dell'ente il fondatore invece è un soggetto che interviene una volta e una volta che interviene nasce l'ente però lui fondamentalmente rimane fuori ovviamente c'è un consiglio di amministrazione perché deve assumere le decisioni e c'è sicuramente un organo di controllo quindi qual è la differenza che si vede subito tra associazioni e fondazioni che nell'associazione l'organo più importante è l'assemblea cioè l'insieme delle persone che si raccolgono per realizzare questo scopo comune tutte collaborano perché tutte hanno l'interesse di realizzare questo scopo comune in cambio nella fondazione in realtà l'organo più importante è il consiglio di amministrazione perché non c'è un'assemblea di fatto una volta che viene costituita il fondatore esaurisce la sua funzione quindi l'unico organo che rimane è il consiglio di amministrazione che cosa farà il consiglio di amministrazione il consiglio di amministrazione amministrerà il patrimonio dell'ente affinché l'ente possa realizzare quello scopo che ha stabilito il fondatore facciamo un esempio io voglio che sia costituito un ente faccio un esempio che è concreto che è quello relativo a un istituto che è molto collegato alla nostra università la Sapienza è che l'istituto Pasteur che è appunto una fondazione istituto Pasteur fondazione Cenci Bolognetti lo potete trovare su internet e trovate anche l'atto costitutivo e lo statuto è un organo che conosco abbastanza è una fondazione che conosco abbastanza quindi supponiamo che ci sia un soggetto il quale dica io voglio costituire una fondazione affinché questa fondazione studi porti avanti lo studio delle scienze Pasteuriane di Pasteur di conseguenza stabilisco che questo ente avrà come obiettivo quello di promuovere gli studi Pasteuriani e ovviamente prevedo a dotare l'ente cioè do un patrimonio all'ente e stabilisco anche le modalità attraverso il quale il patrimonio di questo ente possa accrescersi una volta che io faccio questo e costituisco la fondazione la mia posizione come fondatore è esaurita perché adesso l'attività è tutta attribuita al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo se ci pensate mentre nelle associazioni diciamo che l'elemento principale è proprio l'elemento personale il gruppo delle persone che si riunisce per realizzare un obiettivo comune nelle fondazioni l'organo più importante se vogliamo è il patrimonio il patrimonio che viene amministrato dal consiglio di amministrazione o dall'organo amministrativo per la realizzazione dello scopo ovviamente non è da escludere che il fondatore possa anche stabilire che gli sia componente del consiglio di amministrazione questa sarebbe la unica possibilità in cui il fondatore svolge un'attività all'interno dell'attività di fondazione ecco perché si dice che l'associazione è un ente in cui l'elemento prevalente è l'elemento personale mentre la fondazione è un ente nel quale l'elemento prevalente è l'elemento patrimoniale perché ciò che è principalmente importante nella fondazione è appunto il patrimonio per realizzare uno scopo pensate come dire a una fondazione posteriana dicevamo che è una fondazione con la quale il consiglio di amministrazione amministra il suo patrimonio cerca di accrescerlo sempre di più e ovviamente destina questo patrimonio allo studio delle scienze posteriane ovviamente associazioni e fondazioni si costituiscono in modo diverso qui parliamo delle associazioni riconosciute perché la regola di base è che per la costituzione delle fondazioni regolata dall'articolo 14 del codice civile è sempre necessario un atto pubblico quindi le associazioni si costituiscono per un atto pubblico le fondazioni si costituiscono per atto pubblico però si possono costituire anche per testamento perché si possono costituire per testamento se è vero come è vero quello che io ho appena detto cioè che nella fondazione l'elemento prevalente principale è il patrimonio e quindi questo patrimonio per la realizzazione di questo scopo e il fondatore di fatto non ha un'attività non è presente non è partecipe all'attività della fondazione perché l'attività della fondazione è organizzata dal consiglio amministratore io lo potrei fare tranquillamente per testamento cioè per testamento potrei dire voglio che sia costituita la fondazione X perché questa fondazione abbia come scopo quello di aiutare tutti gli studenti romani che si iscrivano alla facoltà di economia della sapienza e che abbiano nelle condizioni di reddito limitate una volta che io ho espresso questa mia volontà e quindi l'atto costitutivo sta nel testamento l'ente è nato e quindi può svolgere la sua funzione una cosa fondamentale è che nelle fondazioni proprio perché il patrimonio è tanto indispensabile non basta costituirla quindi non basta che il fondatore la costituisca perché il fondatore deve come si dice in gergo entre comillas dotarla dotarla che significa cioè dargli un patrimonio che è il patrimonio iniziale poi ovviamente questo patrimonio nel corso del tempo potrebbe incrementarsi ampliarsi però un patrimonio è necessario in cambio nelle associazioni potrebbero nascere anche con un patrimonio minimo per esempio tutti i soci si potrebbero autotassare dicendo poniamo una quota minimale e quello va a costituire il patrimonio la stessa cosa non si potrebbe dire con riguardo alle fondazioni quindi le associazioni sono organi sono enti scusatemi le associazioni sono enti a base prevalentemente personale in cui ho una pluralità di soggetti che si raccoglie insieme per realizzare un certo risultato le fondazioni sono enti in cui un soggetto destina un certo patrimonio per realizzare uno scopo comune vedete in queste due definizioni che sono quelle classiche si avverte la differenza tra ente a base personale ed ente a base patrimoniale e si avverte la differenza proprio di funzione l'associazione è un ente in cui una pluralità di persone si raccoglie insieme per realizzare uno scopo comune la fondazione è un ente nel quale una persona stabilisce uno scopo costituisce questo ente e gli attribuisce un patrimonio perché realizzi un determinato scopo quindi associazioni e fondazioni sono due organi totalmente differenti adesso prenderemo in esame gli altri due organi che sono sempre altri due enti che sono sempre enti senza scopo di lucro però questa volta sono enti senza personalità giuridica i precedenti erano enti senza scopo di lucro con personalità giuridica associazioni riconosciute e fondazioni questi che prendiamo in esempio sono enti sempre senza scopo di lucro però senza personalità giuridica senza personalità giuridica significa che non hanno autonomia patrimoniale perfetta per quanto riguarda l'associazione ovviamente gli organi sia che l'associazione sia riconosciuta sia che l'associazione sia non riconosciuta sono sempre gli stessi abbiamo l'assemblea il consiglio di amministrazione l'organo di controllo e soprattutto il presidente cioè l'organo che ha la funzione rappresentativa che qui non è previsto però costituisce un organo fondamentale nel comitato invece che cosa abbiamo il comitato diciamo ha una struttura molto simile a quella delle fondazioni diciamo con una iperbole che è inadeguata a esprimere la realtà si potrebbe dire che il comitato è una fondazione non riconosciuta abbiamo gli organizzatori cioè coloro che organizzano il comitato i gestori del fondo e in ultimo l'organo di controllo che cosa è il comitato il comitato non è altro come la fondazione che è un ente nel quale ci sono questa volta non una sola persona che lo costituisce ma un gruppo di persone che diciamo organizzatori i quali ha come obiettivo quello di raccogliere dei fondi affinché si possa realizzare un determinato scopo ovviamente gli organizzatori sono coloro che si preoccupano di recaudare di raccogliere questo fondo poi una volta che questo fondo è raccolto questo fondo dovrà essere destinato per quel determinato scopo e ci saranno ovviamente coloro che dovranno gestire questo fondo e ci saranno anche coloro che dovranno controllare la gestione del fondo un esempio tipico di comitato ci sono moltissimi comitati che sono i comitati di quartiere non so se l'avete visto spesso può succedere e questo diciamo nella realtà italiana è bastante vese spazas succede che ci sono delle persone che vogliono organizzare la festa di quartiere allora per organizzare questa festa di quartiere si riuniscono in questa forma di comitato dice vogliamo organizzare questa festa per fare questa festa ci serve una certa quantità di denaro e quindi io devo cercare di raccogliere questa quantità di denaro e quindi questi organizzatori cominciano a girare per esempio nel quartiere e dicono stiamo organizzando questa festa di quartiere se ci può fare se vuole contribuire se vuole dare una somma quindi in realtà ti chiedono un contributo la persona possono dare questo contributo e quindi loro raccolgono questi fondi questi fondi vengono gestiti dai gestori e poi verranno utilizzati per la finalità per cui gli organizzatori del comitato hanno creato ecco perché si parla di comitati come dire per organizzazioni di feste di eventi eccetera anche qui ovviamente c'è un organo di controllo anche qui come vedete il comitato è un organo che ha una base prevalentemente patrimoniale mentre l'associazione non riconosciuta come l'associazione riconosciuto è un organo che ha una base di carattere prettamente personale rimane intesa che questa è una lezione di carattere puramente descrittiva e generica sugli enti che non analizza in modo specifico i singoli enti ma ha cercato di dare un quadro di quale sia la differenza degli enti del libro primo del codice civile tra di loro spiegando anche qual è la in linea di massima e tendenziale la loro funzione non Grazie a tutti.